Per la sosta nel capoluogo adriatico, una delle novità assolute del 2018 sarà la possibilità di pagare tramite Telepass. Ad annunciarlo è stato l'amministratore unico di Pescara Parcheggi, Vincenzo Di Tella. Questa modalità si aggiungerà al sistema EasyPark, che già permette agli automobilisti di pagare il parcheggio attraverso l'applicazione, scaricabile su tutti i device mobili, rendendo le operazioni più facili e veloci. Basterà quindi avere l'apparecchio Telepass sulla propria automobile, avvicinarsi alla segnaletica orizzontale apposita, fermarsi e consentire la rilevazione automatica dei dati. Più brevi saranno i tempi di implementazione del sistema di automazione del servizio in via Fonte Romana, nei pressi dell'ospedale civile. Il progetto infatti prevede un sistema di videosorveglianza e la costruzione di un box ufficio nell'area di risulta. Il tutto, con ogni probabilità, entrerà in funzione a fine 2017. Sul versante dell'occupazione, l'altra nota positiva è la volontà di Pescara Parcheggi di stabilizzare i 40 dipendenti che attualmente lavorano con contratti a tempo determinato, trasformando il loro rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Stabilizzazione che avverrà, quasi certamente, attraverso concorso pubblico. Stabilizzazione che avverrà, quasi certamente, attraverso concorso pubblico.